Abbiamo tenuto bene, la difesa ha fatto molto bene anche il centrocampo, tutta la squadra. Quando giochi con giocatori bravi sono capaci di risolvere la partita in ogni momento. Saperlo di giocare titolare prepara la partita in modo diverso, però quando devi entrare in partita in corso, ultimi minuti prima che cominci la partita, sicuramente cambia la testa. Ti devi trovare pronto, ma comunque vorrei aggiungere che ci alleniamo bene giorno per giorno e questo ti aiuta a farti trovare pronto. Sicuramente è mancato qualcosa, però vorrei aggiungere che io sono arrivato a febbraio e quello che ho visto in campo e allenamento per allenamento, i compagni, lo staff e tutti quanti abbiamo cercato di dare il massimo per raggiungere questo obiettivo, possiamo dire. Purtroppo non siamo riusciti, ma comunque siamo consapevoli che abbiamo fatto di tutto. Mi sono trovato molto bene, la squadra è molto buona, molto preparata, con giocatori molto bravi, con un mister, con staff, veramente attenti su piccole cose. Sicuramente mi piacerebbe di rimanere.